ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi far conoscere questo nuovo incisore laser della con gro modello con go z1 un incisore laser con 10 watt di potenza che riesce a tagliare il legno senza alcun problema senza fronzoli non è un incisore laser con display o chi sa quali funzioni particolare però riesce a fare il suo nello far davvero bene tra l'altro precisissimo nell'incisione in questo video tagliato infatti diversi spessori di legno ho inciso sulla pelle sul metallo insomma adesso vi farò vedere tutto quello che sono riuscito ad ottenere anche un modulo wifi che ci permette di comandarlo tramite cellulare con un'applicazione dedicata facile da montare in modo disarmante sono letteralmente 5 6 viti e laser smonta in pochissimi minuti quindi cosa fare vi faccio vedere direttamente il video del montaggio e poi vi faccio vedere quello che sono riuscito ad ottenere il suo prezzo però è 349 dollari in euro dovrebbero essere circa 325 euro se ho fatto correttamente alla conversione cercherò di farmi dare un codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosina considerate che come prezzo per le prestazioni che ha effettivamente li vale tutti perché anche se molti incisori laser comunque hanno display hanno chissà quali fronzoli che per carità arricchiscono sicuramente la macchina ma in questo caso se volete ottenere dei risultati eccezionali con questo riuscirete a farli senza nessun problema quindi mettiamo sul bancone e guardiamo cosa abbiamo fra le mani iniziamo e allora iniziamo quindi proprio dal controller la parte frontale di questo incisore laser come vedete nella sua semplicità ha solamente un led di colore rosso e un led di colore verde e il tastino di accensione sulla destra ancora più a destra lo troviamo l'ingresso per l'alimentazione e sulla sinistra altre due porte una è quella per il cavo usb per poterla collegare al computer i profili sono in alluminio sul profilo di sinistra riportata anche questa scala centimetrata che ci permette di posizionare il pezzo con più precisione stessa scala centimetrata la troviamo anche sul profilo dell'asse x questo è il modulo laser che sulla base anche questa copertura in plastica che dovrebbe filtrare comunque sembra che funzioni bene i raggi dannosi del laser sulla parte alta abbiamo tutte le connessioni la scheda protetta da questo plastic glass trasparente e lo stesso si regola in altezza svitando queste rotelline per poter regolare la messa a fuoco infatti è un modulo laser a fuoco fisso la distanza tra questo pezzo di plastica il pezzo da incidere deve essere di 7 mm il cablaggio è relativamente ordinato non mi piacciono tantissimo questi fili colorati a vista lo stesso da questa parte però tutto sommato rientra nel tollerabile questo invece il cablaggio che arriva dal controller e poi si distribuisce fra i motori sensore di fine corsa eccetera è contenuto all'interno di questa garza in nylon quindi da un aspetto ordinato è anche bello da vedere il montaggio davvero semplicissimo all'inizio che ho detto che erano 5 6 viti in realtà sono una dozzina di viti perché sono due per ogni piede più una vita per ogni lato per poter bloccare i profili fra di loro ma torniamo subito all'argomento principale guardiamo i risultati che sono riuscito ad ottenere con questo incisore laser allora la prima prova che ho fatto è stato su questo compensato da 3 mm compensato di betulla ci tengo a specificare che di betulla e non di pioppo perché effettivamente il compensato di betulla si taglia con più difficoltà rispetto a quello di pioppo finora tutti quelli che mi avete visto utilizzare anche nelle altre recensioni sono sempre stati di betulla invece per quanto riguarda gli spessori più elevati sono stati di pioppo in questo caso invece è betulla ragazzi siamo riusciti a tagliarlo ma adesso ci arriveremo allora guardate facendo delle prove di taglio con 200 millimetri al minuto sono riuscito a tagliare già dal 60 per cento di potenza in poi con due passaggi ovviamente anche con tre con tutti i passaggi e di conseguenza con le altre potenze tra l'altro anche questi in teoria aveva già quasi tagliato solo che non ho voluto spingere perché come vi ho detto anche altre volte preferisco farvi vedere direttamente i pezzi che si staccano semplicemente premendoli ma come vedete era già quasi passato per quanto riguarda la precisione ragazzi guardate questa fotografia è uno screenshot quindi già non è in altissima risoluzione però sono riuscito a incidere i dettagli del drone in modo veramente incredibile i dettagli degli occhiali capelli la barba sia in questa la 3500 millimetri al minuto quindi comunque abbastanza veloce al 90 per cento di potenza riducendo la velocità e riducendo anche la potenza ottenuto un risultato ancora migliore ancora più nitido in cui si vedono tutti i dettagli delle nuvole le onde del mare guardate la schiuma delle onde che si imbrangono sulla spiaggia davvero inciso molto bene queste sono delle prove invece per quanto riguarda il riempimento come vedete già 40 50 per cento di potenza a 3000 mm al minuto è riuscito a incidere senza alcun problema direi che questo 40 per cento è l'ideale poi in base ai gusti anche 50 per cento da un colore bollettino più intenso ma ovviamente scava un poco queste sono delle prove di scrittura e anche a 1500 mm al minuto 60 per cento di potenza riesce a darci un ottimo risultato lo stesso per quanto riguarda il logo 40 per cento di potenza 1500 mm al minuto di velocità questa è una prova di taglio come dicevo di fare in tutte le prove degli incisori laser e come vedete siamo riusciti a tagliare una scritta piccolissima ragazzi guardate una scritta davvero molto piccola infatti l'ho chiamata taglio dettagli piccoli 200 mm al minuto cento per cento di potenza guardate il puntino della i e riuscita a tagliarlo con estrema precisione mi piace davvero tantissimo dei risultati che effettivamente con altri incisori laser non sono riuscito ad ottenere questo invece è un po mosso colpa mia dovete perdonarmi ma ho sbagliato le impostazioni questo era un file che avevo preparato per un altro incisore laser quindi avevo inciso in realtà l'altro nome poi l'ho bloccato in tempo quando arrivato alla prova ho accavallato le scritte perché una l'ho fatta più leggera una più potente insomma quindi questo è il risultato ma è stata colpa mia che ho sbagliato le impostazioni ovviamente per ogni lavoro che vi farò vedere sia sul legno che sugli altri materiali inserirò sia alcune inquadrature dettagliate del modulo laser mentre lavora quindi vedremo il fascio laser mentre attraversa il legno eccetera ma inserirò anche alcuni timelapse in modo da vedere tutto l'incisore laser al lavoro questo invece come vi dicevo è un compensato di betulla guardate ragazzi tagliato senza nessun problema siamo riusciti a creare dei fori perfettamente circolare intanto quindi preciso nei movimenti 9 mm di betulla con tutta la colla tagliato al 100 per cento di potenza con movimenti a 100 mm al minuto 10 passaggi lo stesso con 8 passaggi poi ho ridotto 95 per cento 10 passaggi tagliato oppure senza problemi 95 per cento di potenza 100 mm al minuto in questo caso 14 passaggi non sapendo come si sarebbe comportato ho deciso di utilizzare queste impostazioni ma sono state eccessive perché come si vede dalle riprese comunque era riuscito già a tagliare molto prima e guardate ovviamente ci sono dei segni di bruciatura perché ha fatto diversi passaggi ma non sono così eccessivi non sono così eccessivi questa invece è una prova realizzata su questa squadra in metallo in questo caso non ho inciso in metallo in realtà ho inciso il rivestimento però guardate l'ho già pulito con l'alcol l'ho raschiato ragazzi incisione perfetta realizzata al 100 per cento di potenza anche in questo caso 100 mm al minuto inciso davvero molto bene e poi ho provato a fare dettagli che con altri moduli laser effettivamente non mi erano riusciti quindi ho approfittato della lunghezza focale di questo modulo laser che guardate sono riuscito a tagliare senza problemi anche questo foam guardate non ci sono segni di bruciatura è venuto perfetto tagli nitidissimi perfetti pulitissimi e grazie alla lunghezza focale con quattro passaggi una potenza ridottissima sono riuscito a tagliarlo senza problemi e avrei voluto provare con degli spessori più elevati ma non avevo a disposizione foam di spessore più abbondante ma comunque già questo basta avanza per renderci conto della pulizia che riesce a darci questo modulo laser allora ragazzi guardate qua abbiamo una tavola da 22 mm si tratta di legno di larice allora guardate sono riuscito praticamente a tagliare quasi completamente questa tavola quindi 22 mm significa che è una lunghezza focale davvero impressionante non l'ho tagliato in realtà tutto anche se già mancava pochissimo erano quasi riuscito a seguire tutto il taglio perché alla fine in questo spazio aveva preso fuoco quindi sono proprio le fiamme che uscivano per evitare di rischiare incendi ho interrotto tutto però ragazzi è praticamente riuscito veramente a seguire sia nel primo che nel secondo due tagli quasi perfetti quasi fino alla fine secondo me sono pochi i moduli laser che hanno una lunghezza focale tale da riuscire a eseguire questo taglio così profondo 22 mm sicuramente se non avesse utilizzato legno pieno legno vero legno massello ma sicuramente un legno diverso bassa oppure compensato sarei riuscito a completare il taglio anche in questo spessore tra l'altro essendo sul bordo sfogava quindi c'è stato il rischio proprio di prendere fuoco davvero invece se fosse stato sulla parte centrale questo rischio sarebbe stato ridotto comunque a noi interessa capire che la lunghezza focale ci permette di arrivare fino a questa profondità queste invece sono delle prove che ho realizzato sulla pelle bianca che si utilizza per la realizzazione di divani e tappezzeria in generale tagliato immediatamente quindi una volta mi sono reso conto della velocità da utilizzare ho deciso di incidere il mio logo anche in questo caso una qualità che mi piace tantissimo guardate la nitidezza e la qualità dell'incisione lo stesso per quanto riguarda il taglio pulitissimo non ci sono segni di bruciatura assolutamente quindi un risultato davvero eccezionale ho utilizzato la pelle bianca perché si nota molto di più un eventuale errore quindi ragazzi davvero eccezionale senza nulla da ridire davvero un ottimo lavoro e Grazie a tutti D'altra parte come vi ho fatto vedere per quanto riguarda la precisione sia sulle scritte, sulle immagini, sui tagli piccolissimi eccetera, questo modulo laser mi ha stupito davvero per le sue prestazioni, tagli eseguiti correttamente, incisioni realizzate con molta precisione, insomma parlano da sole. Questa è l'applicazione che ci consente di interagire con l'incisore laser, quindi bisogna connettersi, in questo caso andiamo direttamente su wifi, colleghiamoci con l'incisore laser perché ha il modulo laser, quindi ci dà la possibilità direttamente di collegarci con il suo modulo. Una volta connessi ritorniamo sull'applicazione, adesso selezioniamo le dimensioni, quindi 400x400, a questo punto possiamo scegliere dall'album delle foto cosa incidere. Abbiamo la possibilità ovviamente di dare diverse opzioni per quanto riguarda sia la velocità, potenza eccetera, ma scegliamo un'immagine dalla libreria, quindi questo cagnolino, dopodiché possiamo scegliere qua in basso le dimensioni, quindi possiamo rimpicciolirlo semplicemente così, e qua sotto abbiamo riportato le dimensioni, oppure cliccare con un doppio clic, oppure selezionare singolarmente le varie misure, decidere ad esempio 55 mm, in automatico verranno rispettate tutte le proporzioni, dopodiché possiamo decidere se incidere scala di grigio eccetera, possiamo inserire testo, insomma tutte quelle opzioni che ci permettono di personalizzare la nostra incisione. Andando sulla voce successiva abbiamo la possibilità di regolare sia la velocità, la velocità dei movimenti, la potenza del nostro modulo laser eccetera, dobbiamo selezionare anche la potenza del modulo laser 10 watt, dobbiamo anche scegliere il tipo di materiale, scegliamo acrilico, tanto è solamente per fare l'esempio, quindi confermiamo, salviamo, a questo punto abbiamo il modulo laser pronto per lavorare, dice di non fare nulla perché sta elaborando fino a quando non raggiunge il 100%, e da questi comandi possiamo sia spostare vari assi, possiamo vedere una preview, quindi l'area nella quale entrare a realizzare l'incisione, decidere il punto iniziale, insomma tutte le varie configurazioni che si devono dare prima dell'incisione. Ovviamente in questo caso non abbiamo materiale al di sotto, quindi non avvierò l'incisione, ma premendo su start avremo la nostra incisione avviata dall'applicazione. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo Comgro Kong Z1? Secondo me è un modulo laser che anche se ha lasciato qualche segno di bruciatura, però riesce a incidere molto bene. Questi segni di bruciatura sono dovuti al fatto che non è presente l'air assist, però tramite alcune modifiche, poi non so se vendono qualche accessorio, eventualmente mi documenterò e vi farò sapere, metterò qualcosa nel link del primo commento e nella descrizione. Ma guardate, i risultati sono davvero eccezionali, sia sul legno, sulla pelle, tutti gli altri lavori che vi ho fatto vedere. Ok, così torno ai vecchi tempi quando avevo il logo sulla maglietta. Ragazzi, io vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere questo modulo laser, questo incisore laser sul sito del venditore, cercherò di farmi dare anche un codice di sconto, quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata ed eventualmente acquistatelo. Fatemi sapere nei commenti cosa avvenne sempre, alle vostre impressioni, commentate se riesco quando avrò due minuti di tempo, vi giuro che vi risponderò, per ora sono molto indaffarato e non riesco a rispondere a tutti, ma poco a poco rispondo. Quindi commentate, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.